Il cantante di Negramaro, il cantante Giuliano San Giorgi sta per avere una figlia femmina.Fiocco rosa per Giuliano San Giorgi Il cantante di Negramaro, sta per diventare padre per la prima volta. Dopo aver annunciato la gravidanza della compagna Ilaria Macchia, l'artista pugliese ha svelato il sesso del bambino. Sarà femmina l'erede San Giorgi. A rivelarlo lo stesso Giuliano, in una lettera aperta scritta alla piccola in arrivo e pubblicata sul Corriere della Sera Non c'è nessuna gioia se non la si può condividere. Ora, finalmente, la posso fare e il mio figlio inizia ad avere un volto, e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina. E ho i brividi mentre ve lo scrivo, ha fatto sapere San Giorgi Giuliano San Giorgi Si amare da lei, che intanto avrà imparato da noi che ovunque potrà sentire l'amore proprio là, in quel posto, troverà sempre la sua famiglia Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti, ha poi aggiunto Giuliano San Giorgi Ilaria Macchia. Chi è la compagna di Giuliano San Giorgi? . Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo tra i cui lavori si annovera lo script del film Non è un paese per giovani diretto da Giovanni Veronesi, e il libro Visto un uomo a pezzi, edito da Mondadori La compagna del frontman Deine Gramaro è nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese della provincia di Lecce È laureata in cinema, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia . .